Cambiamo argomento, adesso parliamo di un duo di artisti, una coppia davvero molto singolare perché loro sono due gemelli, entrambi musicisti e cantanti e hanno raggiunto una grande opportunità grazie anche a tanti programmi televisivi di carattere nazionale a cui hanno preso parte. E oggi sono con noi a Mattia Live per raccontarsi, tu cura 360 gradi, insomma il piacere di avere qui con noi i gemelli Minetti, ovvero Rosario ed Alessandro, in arte il Rosandro, buongiorno, ben trovati, ben trovato Rosario, ben trovato Alessandro, allora Rosario parto da te perché voi siete cantautori, artisti, a tutto tondo, attori e come duo di artisti avete vinto anche numerosi concorsi chitarristici e non solo e avete iniziato ad avvicinarvi al mondo della musica che eravate davvero piccolini ma come nasce tutta questa vostra passione per il mondo dell'arte? Perfetto, innanzitutto buongiorno a tutti voi da casa, buongiorno a tutti voi presso questo studio. Allora il duo Rosandro nasce un pochettino circa più di 30 anni fa quando eravamo presso a poco dei bambini prodigio e fin da piccolini abbiamo mostrato un interesse particolarmente per l'arte a 360 gradi. Ringraziamo nostro padre il quale ha trasmesso a noi la passione per la chitarra, di fatto abbiamo iniziato gli studi in maniera professionale all'età di 8 anni, abbiamo studiato con un grande concertista di fama internazionale, il maestro Mario Gangi e da lì è partito il tutto, ci siamo affiancati non solo di altri docenti di caratura di livello internazionale, abbiamo avuto anche la fortuna di conoscere il maestro spagnolo Paco de Lucia durante un concerto proprio qui presso il teatro a Napoli e lui ci volle ascoltare a fine concerto e si complimentò. Ragazzi a questo punto dovete portare un po' la chitarra. Eh vabbè la prossima volta, ti aspettiamo una prossima volta. La prossima volta, la chitarra così in live la segniamo. Ed è bello perché ti segui, siete dei figli dei bambini prodigio perché effettivamente Alessandro all'età di 8 anni cominciate piccolissimi, il papà riesce a scorgere questa vostra passione, studiate con il maestro Mario Gangi e poi vi siete anche laureati con il massimo di voti. Diciamo che ci siamo laureati con il massimo di voti e l'ode, siamo stati gli unici privatisti in tutta Italia a riscontrare questo grande successo per noi che infatti siamo usciti su tutte le riviste chitarristiche, sei corde che ci hanno menzionato come gli unici privatisti in tutta Italia ad ottenere questa votazione. Massimo dei voti, con l'ode, complimentissimi, ma quando avete compreso che quella sarebbe poi diventata la vostra passione non solo ciò che in realtà vi piaceva fare ma proprio come professione, quando l'avete capito che quella sarebbe diventata la vostra strada? Allora, guarda, io credo sin da piccoli che quando noi decidiamo di fare un qualcosa, quello che sia, dal punto di vista lavorativo, professionale, anche di vita forse personale, noi cerchiamo di farlo, di dare il meglio di noi stessi, quindi di andare fino in fondo e di ottenere quello che noi desideriamo. Però non avete portato la chitarra oggi. Eh ma perché voi non ce l'avete chiesto, se ce l'avete chiesto noi la portavamo. Aspettiamo la prossima volta, a mattina live, porteremo la chitarra e poi farebbe anche piacere cantare una canzone, fare un gemellaggio. Esatto, maestro, lo stavo appunto per dire. Partiamo proprio di vostri riconoscimenti, entriamo proprio nel vivo, diciamolo anche ai nostri telespettatori perché sono tanti i premi e i riconoscimenti ottenuti, ricordiamone solo alcuni, quali? Primo premio concorso nazionale città di Ostoni, poi ancora primo premio concorso nazionale città di Ercolano, vincitori del premio internazionale Caruso, vediamo adesso alcune immagini che il nostro regista Votere Mondo sta appunto riportando al nostro pubblico di mattina live, ma posso chiedervi anche quali sono stati e oggi possono essere i vostri riferimenti artistici? Allora, fin da piccoli, da subito, eravamo innamorati in particolar modo di due artisti internazionali che erano Michael Jackson e George Michael. Successivamente poi, pian piano crescendo, poi ci siamo avvicinati soprattutto a quella che era la musica latina, la musica americana, al blues. E' un'evoluzione anche. Sì, abbiamo avuto anche un'evoluzione. All'età di circa 11-12 anni eravamo proprio innamoratissimi di Pago De Lucia, di Gipsy King, di Tomatito, dei più grandi chitarristi. Sente Amigo. Sente Amigo, a livello anche blues. Abbiamo anche studiato jazz con uno dei più grandi chitarristi, insegnanti Pietro Condorelli, pianisti Francesco Nastro. Insomma, il nostro percorso è costellato da tanti episodi che ci portano poi a evolvere il nostro stile, non solo artistico, ma soprattutto musicale. È uno stile variegato, possiamo dire. Molto. Perché avete nominato tanti riferimenti artistici totalmente diversi nel loro stile. Sai che a noi piace proprio spaziare. Ecco, dato che noi proveniamo da uno studio classico, perché al conservatorio ti fanno fare uno studio prettamente diverso, dato che a noi piace molto spaziare, avere, voglio dire, una... Conoscere la musica... In senso lato, perché a noi piace la musica a 360 gradi, è questo che noi vogliamo trasmettere, dal blues, dal pop americano, dalla musica latina, dal flamenco, dal fusion, dal jazz. Infatti abbiamo realizzato, come ha detto poi Gansi Rosario, un disco jazz che... Volevo dire che io ho visto. Vabbè, dai. Non avete detto che c'è un titolo, un disco inedito, ancora non abbiamo... Sì, del disco si chiama Strings in Love. Che abbiamo realizzato nel 2009-2010. È un disco che praticamente è una raccolta di tutti i nostri brani che fin da piccoli, cioè piccoli, adolescenti, dall'età di 16 anni... Ha dettato la vostra crescita, è significativi per voi in questo percorso di crescita artistica, perché non è solo musicale, ma è l'arte veramente in tutte le sue sfemature, in tutte le sue declinazioni. Abbiamo parlato appunto di alcuni premi e riconoscimenti, perché ne sono tantissimi altri, però parliamo anche delle vostre partecipazioni su programmi di carattere nazionale, perché siete stati ospiti a Buona Domenica, nell'edizione condotta dal grande maestro Maurizio Costanzo. Che ricordi, Alessandro, di quell'esperienza? Stupendi, perché Costanzo, voglio dire, era molto contento di averci in studio e tra l'altro eravamo anche noi, come dire, riconoscenti nei suoi confronti, perché ci chiamò per tre o quattro puntate. Nell'anno 1999 eravamo poco più che maggiorenni, eravamo 19 anni. Però diciamo che il primo che ci ha scoperto e che ci ha lanciato a livello nazionale fu Pingitore, perché noi facemmo gran caffè con Pingitore, con Pippo Franco, insomma, che ci lanciarono a livello italiano. Dopodiché Maurizio Costanzo e poi abbiamo fatto altre, voglio dire, esperienze all'estero, perché siamo stati dove? Maestro? Maestro, grazie, facciamo questa staffetta, questo gemellaggio, questo connubio. In effetti noi siamo stati anche in diversi paesi a mostrare il nostro talento con ritmo napolatino, perché napolatino, ecco, Napoli... Perché Napoli nel cuore non si dice, no, è cosa bene, insomma. Esattamente, possiamo anche dire che forse storicamente non si dice tanto, ma noi avendo avuto la prima dominazione spagnola, siamo stati i primi europei ad essere i primi latini, voglio dire, d'Europa. Quindi per questo creiamo, attraverso la nostra fantasia, il ritmo napolatino dei gemelli Rosandro. Dei gemelli Rosandro. Che periodo stanno vivendo i gemelli Rosandro? Perché la partecipazione buona domenica, quelle all'estero, poi ai fatti vostri, ultimamente ai soliti ignoti, per rendere ancora più suggestiva e contaminante la vostra popolarità. È un bel momento. Sì, è un bellissimo momento e in effetti attraverso questi episodi noi stiamo raccogliendo tanta gratificazione e riconoscenza, che per noi è un momento magico, se possiamo così definirlo, e tuttora noi stiamo praticamente realizzando un progetto che ci porterà a farci riconoscere non solo come musicisti, ma anche come attori, perché abbiamo scritto una storia per una serie televisiva che ci vedrà come i due attori protagonisti. E non solo, abbiamo anche realizzato una cover di un tema in spagnolo napoletano che si chiama Tu vuoi fare l'americano, però versione spagnola e napoletana, cantata allo stesso tempo. Beh, interessante. Allora concludiamo, Alessandro, perché mi interessava anche conoscere questo aspetto. Siete entrambi legati e lavorativamente, ma affettivamente, perché i gemelli, anzi in realtà ci sarebbe anche un'altra sorella, che lei gemella, possiamo anche salutarla. Ciao Melania. Melania, ma come sono questi due fratelli? Lo chiederò a te, magari possiamo... Terribili, siamo terribili. Sono tremendo. Mi sa quanti spersetti avete fatto a vostra sorella? Tanti, tanti. Però posso chiedervi, ecco, com'è lavorare con un fratello gemello, velocemente? E guarda, delle volte, siccome abbiamo dei gusti molto simili, mi meraviglio, è come se dovesse lavorare con me stesso. Cioè, cambia la sfaccettatura, cambia un neo, cambia... quindi il che è molto più facile, capisci? Perché pensi... Però, attenzione, ci sono gemelli e gemelli, cioè gemelli anche totalmente diversi, proprio opposti che hanno un'interpretazione della vita totalmente differente. E quindi diciamo che noi ci troviamo a nostro agio, perché abbiamo la stessa lettura, la stessa... Sì, due fisici con una sola anima, per questo abbiamo anche intitolato il nostro nome artistico... Rosandro, la fusion dell'alma. Ma siete fidanzate? Adesso, per il momento intero, siamo liberi sul mercato. Liberi sul mercato. Siamo tutti liberi. Facciamo un gemellaggio? Questo potrebbe essere lo stesso, quindi mi preoccupo. No, no, attenzione, no. Su questo settore... Ognuno si fa il proprio gemellaggio. Esatto, bravo maestro. Salutiamo Melania, ma salutiamo i fratelli gemelli, i Rosandro, ovvero Rosario e Alessandro Minetti. In bocca al lupo e vi aspetto la prossima volta con una chitarra e con una piccola esibizione. Va bene, grazie. Restate con noi, piccolo break.